Ciao a tutti telemaniaci e benvenuti in un nuovo episodio di Jetspunk Vediamo oggi dove ci porteranno le nostre avventure da spia Allora, check in at reception, quindi insomma dobbiamo andare a fare il check in per l'aereo alla reception Salve! Welcome to KaiTak Resorts, we've got the cable television and the stereo buffet Perché si gira quella... vabbè, non fa niente Ci hanno... la tv via cavo hanno detto Si, ciao amico Si, foro o faro La stai bruciando Si, però... Ok, la mia camera è la 405, bene Penso che... Penso sia... Ah, però... Sono stupido io Il 3rd floor, devo andare al quarto A quarto piano The Great Elevator War Oh, madonna Cacchia amico Che cosa è questo? Extra Strand Oh, madonna Nooo Cos'è? Cos'è? James Bond Non mi... no, non mi dire che... Ah, posso buttarmi e non mi faccio niente? Figo Ok, 405, bene Chi è questo? È il telefono? Oh Cambio di piani Wow Un nuovo di sindacato è lì Buona opportunità Può fare questo Attach case Scambia case Ah, lei Ok, ho capito Ah, lei è al bar Ma ora rimed glasses Ah, ok, ok Perché l'hai lanciato? Ah, ok Ho capito bene Oh, no No, stupendo Ok Penso che è il fatto Oh, madonna Ah, sì Io sono assolutamente distraccato Con la tua radiazio Allora, mi presenti Io sono conosciuto Come l'editor Ah, no, dai Raffimenti Uccisioni Putpuri Ragazzi, non chiedemi cos'è Putpuri Perché non lo so Antagonist Wow Ciao Un cocktail per la pietra Oh Complimenti della donna in red Ah, grazie Ma sì Sì, sei un playboy Oh, no Non si tratta di cat Oh, no Oh, no Sì, siamo twins Devo scappare Devo scappare Che cazzo You look a little pale No 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 Ho fallito la missione? Ah, mi sono ubriacato proprio mezzo No No Occidenti Non so se l'ho fallito oppure se non devo saltare No No, non devo saltare No, vabbè Eccoci proprio No Dove sono? Sua sedia? No Tipo un outlast Mi tagliano le dita? Bene Allora Telefono Un telefono No Le cuffie Niente Allora Cos'è un trapano? Che cacchio mi è successo? Oh Oddio Let me text Allora Cacchio Turista nella Stark Yard Ok Sei in pericolo terminale Voglio aiutarti Vieni alla piscina Verifica Che tu non sia seguito Ok Amadosca Ah, ok Devo andare qua ora ragazzi Ovvio Ci ho messo Allora Ci ho messo una vita per trovare Ma dovevo andare sul La piscina sul retro Magari Non mi ripenia proprio in mente Di solito Dietro si dice On the back Ma Vabbè Proviamo un po' Ah Poi a parte che ho preso anche Ho preso anche La finza La La Chiave inglese No Vai Bellissimo Cioè io amo Street Fighter ragazzi Ecco la macchina È il mio livello No Mamma mia Ok Avremo un altro punto Qui Mamma mia Vabbiamo Street Fighter ragazzi Questo qui È bellissimo Cioè chi ha fatto questo gioco È malato di mente Ma È geniale La tempo stessa K.O Win Perfect Perfect I understand Your hand punch site Grazie Tutta sanguinante la macchina Ma che è sta roba Mamma mia Bellissimo Ah Ok ragazzi Dopo la macchina La rear pool Era questa qua Mi sa Quindi Non mi ero sbagliato Non mi ero sbagliato io Wow Sì dimmi Ah grazie a Buddha ce l'hai fatta Spero tu non ti sia stato seguito Bene dimmele Queste erano le informazioni Ma prima Per prendere le precazioni necessarie Ok Just hold still This will hurt you a lot more than it will hurt me Ah Grazie Grazie Ok Now they can't manage us You should sit down There's a trauma couch over there Dimmi tutto Dimmi This resort It's all fake Tutto finto We're all characters in a scene Simulation 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 Simulazione It's taken me decades But I've discovered a way out of here Find the mechanical bore Sì Kill it and cook it Kill it and cook it Kill it and cook it It will lead you to freedom Lo cuocere E mi cuocerà Kill this The natives use it for hunting the war Maialino Maialino Vieni qui dai dai Dove lo cucino però Dove lo cucino però Ah qui Bene Ragazzi Ci siamo Sì ce l'ho fatta E' Escape No Scappa dal network Oh madonna Che cacchio è questo Ma Dai Ah no Non mi dica glitchato Ok Penso di aver trovato il modo per andare avanti Spero sia questo Ok Com'è? Allora Allora Best function of the first kind Sì Allora Questo Activate Darknet 1.0 Ma questo sia uguale Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Bene Che devo fare? Ah Preciso eh Come Homer risolve Come Homer risolve Ah Siamo tornati all'inizio E tu sei ancora un box? Box sensiente Ciao Ok Questo non è normale Ragazzi Sì 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 4 3 2 1 Non posso fare niente No Non posso fare niente Se 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 Autocarica da solo Cacchio Ci è mancato davvero poco Fermi tutti Infatti Qui finisce Un altro episodio Di Il secondo episodio Spero vi sia piaciuto Io davvero Mi sto appassionando tantissimo A questa serie Quindi Vi ricordo Se il video vi è piaciuto Di lasciare un mi piace Ed un commento Che aiutano sicuramente i video A crescere E ad essere più conosciuto Quindi Se ci tenete Vi prego fatelo Fatelo davvero tanto Inoltre Come sempre Iscrivetevi se ancora non siete iscritti Ci vediamo nel prossimo video Bye Bye